ciao a tutti e bentornati sul canale io sono stefania in questo video vi mostro come decorare una shopping bag la mia io l'ho acquistata da stradivarius mi è piaciuta tanto perché è mimetica e ha la scritta e il logo stradivarius con la chiave di violino in dorato che è appunto un po' perlescente l'ho decorata utilizzando delle patch sempre di stradivarius e delle pin di beshka per questo video tutorial ci occorrerà della colla per tessuti delle spille a piacere e delle patch quindi delle toppe ovviamente ci occorrerà la nostra shopping bag è tutto quello che vogliamo decorare nel mio caso uno zaino il procedimento è semplicissimo intanto stendo sul tavolo da lavoro dei vecchi giornali in modo da non sporcare nel caso dovesse colarmi della colla inizio proprio dal mio zaino e siccome ho questa patch con la bandiera americana che si sta scollando perché quella l'ho attaccata con il metodo a caldo cioè utilizzando il ferro da stiro incollo con la mia colla per tessuti e dopo che l'ho applicata sto lì a tenerla per un po in modo che si attacchi bene allo zaino fodero l'interno della borsa in modo che la colla non passi tramite il tessuto e non mi sporchi il lato opposto scelgo le patch e decido dove applicarle e poi sempre utilizzando la mia colla per tessuti le posiziono e le incollo tengo premuto per qualche minuto e procedo così fino a terminare tutte le patch che ho deciso di incollare mentre per quanto riguarda le spille ho deciso di applicarle sulle manici perché sono più doppi e reggeranno sicuramente meglio come avete visto realizzare una borsa decorata a nostro piacere è semplicissimo è un metodo facile pulito ma soprattutto veloce il mio video termina qui spero vi sia piaciuto ricordatevi di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti di seguirmi sui canali social che trovate qui in sovraimpressione di cui vi lascio il link giù nell'info box vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao